Vuoi anche tu Apple Music gratis fino a tre mesi? Ecco come fare! Vai su Google e scrivi shazam.com e come vedi qua ti apparirà questa scritta. Schiacciaci sopra. Ora verifica la tua identità. Continua. Così puoi ottenere i mesi gratis, ma se questo processo lo fai dal computer ti farà scansionare un QR code.